Se hai 16 anni e vivi nel quartiere più bello di Roma, sei fortunato. Il nostro è il migliore dei mondi possibili. Per quanto sia tutto così perfetto, per sopravvivere abbiamo bisogno di una vita segreta. Tra la metà dell'anno non è sempre. Sono sicuro che ti inserirai bene. Ma chi ha detto a sta confidenza? Io non so, amico dei padronini. Che l'ultimo sono in giro? Già ci vedo. Serate, un bel vestito. Sai, ci sono ragazze che le tatua le combinano in tutti i colori. Se la gente si fa un'idea di te, dopo non si torna più indietro. Senti, ma cosa sta succedendo? Tutto bene? Mi servono i soldi. Senti, i soldi rendono tutto più chiaro. Senti, va bene. Senti, va bene. Grazie a tutti.